Statevene a casa, se potete, e limitate il più possibile il contatto sociale nei luoghi affollati. Ci sarà un altro momento per fare la grigliata con gli amici, la pizzata con la palestra, la festa di compleanno. Solo perché le scuole sono chiuse non è che ci dobbiamo comportare come se fossimo in vacanza. Ciao a tutti e bentornati sul canale del vostro amichevole chimico di quartiere. Questo è un video insolito, diverso da tutti gli altri, perché io e voi dobbiamo fare un discorsetto. Vi voglio spiegare in parole semplici, a cosa servono? Perché siamo sottoposti a tutte queste restrizioni al movimento? Ci sono dei divieti in molte province d'Italia, in una regione, in Lombardia, per esempio io sono in questo momento in Lombardia, ci sono delle restrizioni addirittura dei divieti per delle manifestazioni sportive o religiose. Vi voglio spiegare qual è il rischio reale a cui andiamo incontro, perché mi sembra che non sia stato spiegato o forse compreso in modo sufficientemente chiaro. Vi parlo della Lombardia, da un paese vicino a Milano, io sono in casa e cerco di limitare al massimo le mie uscite e ovviamente non posso, ma non ne ho neanche l'intenzione, di uscire dalla Lombardia. Non temo per me, io sono in buone condizioni, relativamente giovane e i dati mi dicono che se io prendessi il coronavirus, con tutta probabilità avrei un decorso benigno e guarirei in poche settimane. Tra l'altro quello che noi chiamiamo coronavirus in realtà più correttamente si chiama SARS-CoV-2, perché i coronavirus sono un gruppo di virus che è noto almeno dagli anni 60 e sono responsabili di una serie di patologie, incluso per esempio il comune raffreddore. Questo lo dico per far tacere i complottisti che fanno girare foto di etichette di disinfettanti di qualche anno fa dove c'è scritto attivo contro il coronavirus, come se questo fosse una qualche dimostrazione che il virus era stato creato in laboratorio, ma non ce lo vogliono dire. Ecco, questa è una stupidaggini. Lasciamo perdere gli imbecilli, la cui madre notoriamente è sempre incinta. Vi voglio spiegare perché queste misure di restrizione servono a proteggere non tanto il singolo, non me, non voi ragazzi e ragazze che ora siete a casa, da scuola o dall'università, ma a proteggere la nostra società, che comprende anche anziani, deboli, persone che attualmente sono malate, persone immunodepresse e altre fasce deboli della popolazione. Mi aiuterò con il mio fedele Lego, prima o poi dovrò chiedere una sponsorizzazione, e con i dati che sono disponibili nel momento in cui registro questo video, cioè l'8 marzo. Supponiamo di avere un gruppo di persone sane ma suscettibili di infettarsi qui con i cubetti gialli. sono suscettibili perché non hanno gli anticorpi in generale, per qualsiasi epidemia, ma nel caso di questo virus, che è nuovo, non ce li ha proprio nessuno, perché non esiste un vaccino ancora, quindi nessuno l'ha mai fatto. Allora supponiamo che nel mio paese ci sia una persona infetta e infettiva, cioè che può trasmettere il contagio a qualche altra persona. Questa persona sta bene, non sa di essere infetta, il tempo di incubazione si stima sia tra i 2 e i 14 giorni, quindi magari questa persona, magari si sente solo un po' calda, una piccola febbriciatola, non pensa di essere ammalata di questa malattia e va a una grigliata con gli amici. Il virus si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con le goccioline di saliva mentre parliamo o magari tossiamo. Ecco perché ci dicono di restare almeno a un metro, un metro e mezzo di distanza dagli altri in questi giorni, perché così riduciamo la probabilità che se abbiamo di fronte qualcuno che ha la malattia siamo infettati. Ovviamente se organizziamo una festa di compleanno tra bambini o andiamo a un raduno con uno youtuber in un centro commerciale richiamando centinaia di persone le probabilità che se c'è qualcuno infetto la passi agli altri aumentano. I dati attuali ci dicono che mediamente una persona infetta, ma che non sa di esserlo quindi non è a casa, isolata o in un ospedale, infetta o meglio contagia altre due persone. Facciamo finta che sia due questo numero. Quindi alla grigliata questa persona vuole la sfiga che ne contagi altre due. Uno di questi era magari un amico che arrivava da un paese vicino dove non c'era il virus, lui non sa nulla ormai è contagiato, se ne torna a casa, arriva nel paese e da lì comincia a contagiare anche altre persone. Lui non è consapevole però il virus fa il suo corso. Magari se non fosse andato alla grigliata beh il virus non sarebbe mai entrato in questo paese ma ormai è troppo tardi e così altre persone vengono infettate. Magari questa questa persona ha una nonna di 80 anni che insomma non se la passa molto bene e infetta pure lei. Se non fosse andato alla grigliata magari il virus appunto non l'avrebbe mai preso e così pian piano sempre più persone vengono infettate. A un certo punto i sintomi della malattia si fanno sentire. Il virus penetra nelle cellule, si riproduce e colpisce il sistema respiratorio scendendo in profondità nei polmoni. Quindi i sintomi includono febbre e difficoltà di respirazione. Le persone malate e che si accordono di esserlo si rinchiudono in casa magari oppure se sono un po' più gravi o se sono un po' più deboli vanno all'ospedale. Queste non infettano più nessuno, sono isolate, le togliamo dal calcolo. Ma purtroppo le persone che loro hanno infettato e che non sanno ancora di essere contagiose sono ancora libere di andare in giro e magari contagiare altre persone. In questo momento in Italia i contagiati raddoppiano ogni 2,6 giorni quindi c'è un andamento esponenziale. A oggi in Italia ci sono 6387 persone positive alla malattia. Li chiamiamo infetti o infettivi con la lettera I. La malattia per inciso si chiama COVID-19. CO sta per corona, V sta per virus, virus e 19 è l'anno in cui è stata per la prima volta identificata. Tra i 6387 positivi, beh, 2180 si trovano in isolamento domiciliare. Sono circa il 34% perché probabilmente le loro condizioni non sono gravi e le autorità hanno ritenuto che potessero stare a casa. Poi ci sono 3557 ricoverati in ospedale con dei sintomi più gravi, quindi hanno bisogno di essere in ospedale, però respirano da soli. Questi sono il 56%. Questo è il primo problema. Gli ospedali si stanno riempiendo a una velocità pazzesca e questo significa che nelle zone dove c'è l'epidemia, se una persona ha bisogno di andare all'ospedale per un'altra evenienza, per un infarto, per un incidente stradale, rischia di trovarsi l'ospedale completamente pieno o comunque tutti i medici sono occupati in questa emergenza e quindi rischia di non godere delle cure migliori che potrebbe avere in una situazione normale. Ma c'è di peggio, seguitemi. La maggior parte delle persone guarisce nel giro di due settimane se i sintomi sono lievi, oppure nel giro di sei settimane se i sintomi erano un po' più gravi. Questi li indichiamo con R, sono i rimessi, li togliamo dal compito. Questi non sono più infettivi e non si possono più infettare. A oggi i guariti sono 622. Nei casi più gravi però i polmoni si riempiono di liquidi e la respirazione è compromessa. Può sommentrare una forte polmonite con una sindrome respiratoria acuta molto grave. Il malato quindi deve essere messo in terapia intensiva. Cosa vuol dire? Vuol dire che deve essere attaccato ad una macchina che gli permette di poter respirare e mantenerlo in vita. Attualmente ci sono 650 persone in terapia intensiva, circa il 10% di quelli che si sono ammalati e li indichiamo con il blu. Queste persone purtroppo sono in terapia intensiva, sono attaccate a una macchina che gli permette di respirare. Magari il numero reale è un po' minore perché non sappiamo esattamente quante sono le persone che si sono infettate perché magari alcune persone ce l'hanno avuto o ce l'hanno in questo momento ma non l'hanno dichiarato, sono a casa, quindi è probabile che questo valore sia un po' diverso ma non cambiano gli ordini di grandezza dei numeri in gioco. Tra le persone in terapia intensiva magari c'è anche la nonna di quel ragazzo che è andato alla grigliata. Quanti posti abbiamo in questo momento in Italia di terapia intensiva? Non 5 milioni, non 500 mila, non 50 mila, abbiamo circa 5000 posti, 5000 macchine attaccate a un letto. Sono solo 5000 e tra l'altro non sono neanche distribuite in modo uniforme in tutte le regioni d'Italia. Se qualcuno in questo momento va in ospedale perché ha bisogno della terapia intensiva, magari perché ci arriva per un'altra malattia, ora rischia in alcuni ospedali di non trovare posto, di non trovare disponibilità con le conseguenze che potete facilmente immaginare. Io me lo ricordo mio papà qualche anno fa quando è andato in terapia intensiva una notte e vi auguro di non vedere mai un vostro caro in terapia intensiva. Purtroppo una piccola parte che adesso non possiamo stimare, forse tra l'1% il 2% il numero è basso ma non è bassissimo, una piccola parte delle persone che si ammalano muore. Questa è la letalità, da non confondere con la mortalità. La letalità è la percentuale di persone che muoiono tra tutti quelli che si sono ammalati. Francamente quando io sento discorsi tipo vabbè ma tanto muoiono solamente degli anziani già malati mi girano francamente le palle. Mia mamma ha 81 anni e cerco in tutti i modi di proteggerla e spero che non si prenda questo virus e sono convinto che tutti voi che mi state ascoltando in questo momento avete dei vostri cari che magari sono anziani oppure magari non sono anziani ma sono ammalati, sono immunodepressi, hanno dei problemi e di sicuro non volete che possano correre questi rischi e ancora peggio non volete essere voi a infettarli. Le misure di restrizione quindi alla socialità non servono a proteggere noi che stiamo in salute anche se vorrei ricordare che non è che siamo proprio tutti immuni ci sono stati anche dei casi di giovani e di sicuro anche quelli della mia età ma anche molto più giovani che sono morti oppure che stanno ancora male pensate al paziente 1 praticava sport maratone e così via è ancora in gravi condizioni sua moglie è tuttora ricoverata e sua mamma purtroppo è morta. Queste restrizioni servono a proteggere il nostro sistema sanitario il sistema sanitario della nostra società e quindi di riflesso tutte le persone che ne hanno bisogno per qualsiasi malattia e non solo il coronavirus. Io stando a casa e non andando alla grigliato alla festa di compleanno, la cena della palestra o degli amici dell'ufficio contribuisco a rendere più difficile la vita al virus. Si chiama responsabilità sociale e dovremmo averla tutti. Cosa succede se ce ne freghiamo? E devo dire che nelle ultime settimane in italia non ci siamo comportati benissimo. Beh è facile, è possibile costruire un modello matematico molto semplice che simula un'epidemia. Il modello più semplice considera i sani, gli infetti e i rimessi e quindi si chiama modello SIR. Ce ne sono altri più sofisticati ma non è importante, comunque è anche abbastanza facile da simulare al computer. Adesso vi faccio vedere un grafico. Se ce ne freghiamo all'inizio come vi dicevo c'è un aumento esponenziale dei casi e quindi il numero di contagiati sale 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 sempre più persone vengono infettate. Poi a un certo punto si raggiunge un picco e pian piano si riduce. Questo in generale è vero per un'epidemia ma vi ricordate che il 10 per cento delle persone devono essere messe in terapia intensiva? E vi ricordate che adesso in italia ci sono solo circa 5.000 postazioni di terapia intensiva? Sì certo la protezione civile si sta allertando per ottenerne altre per acquistare dei nuovi respiratori ma ci vuole del tempo e non è che con una bacchetta magica possiamo averne 50.000 subito. Il grafico ovviamente è solo illustrativo infatti non ci sono dei numeri ma la riga orizzontale che vedete nel grafico serve a illustrare il numero massimo di persone che il nostro sistema sanitario nazionale riesce a gestire. Se ce ne freghiamo delle indicazioni e aiutiamo il virus a circolare e non vorrei essere nei panni di quel medico in ospedale che si vede un giorno arrivare dieci persone che hanno bisogno della terapia intensiva e lui ha solamente cinque postazioni. Non vorrei essere nei suoi panni non vorrei essere ovviamente nei panni delle persone ammalate ma neanche dei loro familiari. Cosa succede invece se ci prendiamo le nostre responsabilità e riduciamo i contatti sociali al minimo? Ci laviamo accuratamente le mani, evitiamo le riunioni inutili, insomma seguiamo i consigli di buon comportamento che ci stanno dando. Rallentiamo il virus ormai non è più possibile tenerlo confinato no? Era la speranza iniziale quando era a Codogno diciamo lo teniamo confinato lì e questo non esce. In realtà non è successo anche anche per colpa del cattivo comportamento degli italiani ormai quello che possiamo fare è solo rallentare la sua diffusione e spalmare su un tempo più lungo i suoi effetti. Questo è il grafico della seconda curva. La curva cresce meno perché noi rallentiamo la diffusione del virus e il picco quindi si sposta più in là ma questa è la cosa importante rimane al di sotto della riga orizzontale che rappresenta il massimo dei casi che il nostro servizio sanitario nei nostri ospedali possono in un certo momento sopportare e lo ripeto non solo per il coronavirus ma per qualsiasi problema uno debba avere in quel momento e avere la sfiga di dover andare all'ospedale. Lo so che soprattutto per ragazzi e ragazze giovani la socialità è importante ma è molto più importante contenere il virus. Io ho cercato di spiegare questa questa cosa a mio figlio e così l'ho spiegata a voi. Spero di essere riuscita a convincere lui e voi. Siate responsabili. Ciao